Vogliamo sapere, Toto, o meglio Strada dei Parchi, che tipo di progetti vuole fare sulle infrastrutture più importanti che abbiamo in Abruzzo dal punto di vista autostradale? Perché si parlava sul Sole 24 Ore, su un giornale quindi importante, del deposito di un piano di circa 3 miliardi di euro di interventi e ovviamente con prolungamento, immaginiamo, della concessione autostradale per molti, molti anni, evidentemente, per rientrare di questi, che non sono investimenti a mio avviso, ma sono anche raccolta di fonti dai pedaggi che pagano gli abruzzesi e non abruzzesi usando queste autostrade. Noi eravamo interessati anche agli aspetti ambientali, ovviamente i giornali riportavano una comunicazione, una valutazione avvenuta del Ministero delle Infrastrutture su questo progetto, al Cipe, quindi c'è stata anche una valutazione del Ministero scritta e quindi abbiamo chiesto anche questa valutazione. Il Ministero ci ha risposto che per ragioni in realtà che non eravamo stati precisi nell'individuare i documenti, quando invece erano veramente chiavi. Poi forse ci potrebbe essere una questione di riservatezza, non capiamo quale possa essere riservatezza, quindi visto che noi i soldi li tirano fuori i cittadini abruzzesi e non abruzzesi che usano quelle strade, quelle infrastrutture sono state realizzate nel passato con fondi pubblici e le nostre autostrade. Quindi, insomma, è incredibile questo muro di gomma che persiste presso il Ministero delle Infrastrutture e ne è totalmente inaccettabile. Quindi noi chiediamo al nuovo Ministro Toninelli di far entrare aria in quel Ministero, aprire i cassetti e far vedere tutti i documenti ai cittadini perché hanno il diritto di poter intervenire sul futuro delle autostrade abruzzesi.